Eccoci, buonasera. Possiamo dire, cercando di dirlo con le molle, che forse siamo usciti dal tunnel Boccia, almeno dal punto di vista informativo, non è più quella l'apertura del giornale, lo scandalo, il caso San Giuliano Boccia. Tornano anche per la politica interna i grandi temi, perché c'è stato il vertice di governo per vedere cosa si può fare nella manovra che anche l'Europa aspetta, anche perché i margini sono molto stretti e come ha detto il Ministro Giorgetti bisogna mettere in sicurezza i conti pubblici. Sullo sfondo, lo dico, c'è anche, ma non ci sono certezze, c'è anche la bossa del provvedimento per il quale i dipendenti pubblici volontariamente potrebbero arrivare a restare al lavoro fino a 70 anni. Questo viene interpretato ovviamente come un ballon del sé per allungare surrettiziamente la vita lavorativa, eccetera, eccetera, ma assicurano dalle parti del governo, noi riportiamo tutto, che si tratta appunto eventualmente di una bossa, di un provvedimento che riguarderebbe l'assunzione di responsabilità, non è assunzione di vero e vero, la scelta per gli interessati su base volontaria di andare avanti, cercando di prefigurare un avviamento per chi dovrà succedere nei ruoli all'interno della pubblica amministrazione. È ovviamente una cosa che dico perché riguarda centinaia di migliaia di persone, forse anche di più, ma in realtà dietro al vertice della maggioranza di governo, il vertice dei tre leader, cioè Meloni, Tagliani, Salvini e c'era anche Lupi, per dire il vero ci sono anche dei temi che ancora non sono stati regolati, ci sono le nomine alla RAI, mica poco, c'è la questione di chi sarà il candidato a succedere nelle speranze del centro-destra, a Toti e nella regione Liguria, nella sfida contro Andrea Orlando del PD e c'è anche la questione dello Ius Skolle. Questo è quello di cui si parla, mentre all'altra parte il tema è, festeggia diciamo così, il suo decimo anniversario, Renzi. Dieci anni fa Renzi era la guida del paese, ha vinto le elezioni europee col 41%, oggi diventa una sorta di criptonite verde per una parte, come sapete, del campo largo e non solo c'è Conte che non lo vuole in nessun modo, non solo non lo vogliono, come si sa, anche a sinistra, alternativa verde-sinistra, ma comincia nella sua partita per entrare appunto nella coalizione di centro-sinistra a perdere pezzi. Oggi ufficialmente l'addio di un gruppo guidato da Maratin, l'economista che è appunto tra gli eletti di Italia Viva, che lascia. Vedremo però che ci sono i nostri sondaggi del lunedì e ci sono le prime reazioni a quello che è il vero fatto del giorno, se non fosse un annuncio, se non fosse un programma che è stato rappresentato, che è stato illustrato ai leader dell'Europa e alla Commissione europea, perché Draghi, di lui si parla, ha presentato un piano mastodontico, 400 pagine e soprattutto una super riforma dell'Unione europea che si basa anche su un rilancio economico fortissimo, un vero e proprio super piano Marshall, non uso a caso le parole, perché quel piano Marshall, quello che rimise in piedi l'Europa a seconda guerra mondiale, era ben minore nella sua portata economica di quello prefigurato da Draghi e che per questo non avrà facilità a passare, perché si baserà evidentemente sugli euro bond soprattutto, cioè su buoni del tesore, certificati di credito in tutti i paesi europei, per sostenere appunto la crescita, le scelte anche nella difesa. Ma c'è tanto altro, perché appunto ci sono le due guerre, ci sono altre vicende italiane, ancora una volta foggia, ancora una volta attacchi al personale del Policlinico, vere e proprie aggressioni. E poi c'è la vera buona notizia, proprio dal punto di vista medico, il video con cui la principessa Catherine, Kate Middleton, annuncia ai sudditi britannici che è uscita dal tunnel della Chemio. Questo è altro, Sinner compreso, tra un minuto. Eccoci, buonasera. E quindi tornano le questioni di governo, le questioni dell'economia al centro dell'attenzione, le questioni che riguardano milioni di italiani direttamente, non che le vicende di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane e nei scorsi giorni, a cominciare da quella che ha portato alle dimissioni del Ministro della Cultura a San Giuliano, fossero di poco conto. Ma qui stiamo parlando del futuro e del presente. E anche, lo dico subito, di un progetto di legge, di una bozza, che ancora non è ufficializzata e che potrebbe portare su scala volontaria una parte dei lavoratori del settore pubblico, della pubblica amministrazione a superare l'attuale finale di vita lavorativa e arrivare fino anche a 70 anni, su base volontaria. Su questo probabilmente si incentrerà il dibattito anche con le forze sociali nei prossimi giorni. Per ora c'è solo una bozza. Se ne è parlato nel vertice di governo, ma ci sono tante altre cose. Il vertice era al più alto livello, perché c'era Meloni, Tajani, Salvini, Lupi, Giorgetti. Una politica di bilancio seria ed equilibrata, proseguendo sul solco tracciato l'anno scorso, mettendo fine alla stagione dei bonus. Termina con un comunicato congiunto che enfatizza il comun sentire e mette nero su bianco i concetti già anticipati dalla Premier, sabato a Cernobbio e sottoscritti da Giorgetti, il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi dedicato alla manovra. Intorno al tavolo la Premier Meloni, due vice, il leghista Salvini e l'Azzurro Tajani, il centrista Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia. Necessario accordare gli strumenti e indicare priorità comuni tra gli alleati per evitare fuga in avanti e proposte irrealizzabili in vista di una sessione di bilancio complicata, compressa tra risorse limitate e le nuove regole del patto di stabilità che richiedono un piano di rientro dal debito. Nel pranzo di lavoro, durato oltre due ore, il ministro Giorgetti ha illustrato ai leader del centrodestra la situazione dei conti pubblici e le nuove procedure di bilancio. Necessario fare il punto sul piano strutturale di medio termine, introdotto dalla riforma delle regole del patto di stabilità che l'Italia dovrà presentare alla Commissione europea entro il 20 settembre, ma anche la legge di bilancio 2025, nel giorno in cui dal Ministero della Pubblica Amministrazione filtra una bozza sul possibile allungamento dell'età pensionabile a 70 anni su base volontaria. In questa cornice le direttive sono, da una parte la conferma di quanto già è stato fatto, vedi il taglio del cuneo fiscale e dall'altra la concentrazione di eventuali risorse aggiuntive, su quattro priorità, famiglie, imprese, giovani e natalità. Margini stretti, un bagno di realtà per gli alleati che entrano con molte richieste ed escono ridimensionati, un appuntamento che dopo l'ustione del caso San Giuliano potrebbe diventare fisso. Nel vertice si è parlato anche di Liguria, anche se non è chiuso il confronto, sui nomi in campo per il Dopototi, rinviata invece la questione RAI. Non si è parlato di nomine, conferma nel pomeriggio il vicepremier Taiani, che dopo giorni di punture a distanza con l'alleato Salvini minimizza. C'è sintonia su tutto. Sì, c'è sintonia su tutto, si dice sempre così quando si esce da un vertice. In realtà la sintonia non c'è, ci sono dei temi che sono importanti, la maggioranza su cui ci sono visioni diverse o a volte anche diametralmente opposte. Sullo sfondo ci sono anche gli echi e quelli che potranno essere i contraccolpi proprio della vicenda San Giuliano. Le tensioni tra Lega e Forza Italia restano. Dallo Just School all'autonomia, le divisioni interne alla maggioranza che scorrono sotto traccia riemergono con forza e rischiano di complicare il lavoro del Governo e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dopo aver cercato di chiudere rapidamente la vicenda del Ministro di Missionario della Cultura San Giuliano, si trova alle prese ora con altri due dossier delicati ed urgenti, quello appunto sulla legge di bilancio e il rinnovo del CDA della RAI. Soprattutto quest'ultimo sembra essere il capitolo più spinoso. Tutto è ancora da definire per la nomina dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Viale Mazzini. Ma intanto Tagliani rilancia la battaglia sul fronte dei diritti. Guai se avessimo paura di concederli. Saremmo un centrodestra oscurantista che non si rende conto dei cambiamenti della società, detto il responsabile della Farnesina, riferendosi al dibattito sullo Iuscole. Il rilancio fatto dal leader di Forza Italia l'altro giorno a Bellari ha provocato la reazione netta del partito di Matteo Salvini che con il vice segretario Crippa ha ribadito che la legge sulla cittadinanza va bene così. Mentre il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, sempre della Lega, ha addirittura rilanciato una stretta la legge sulla cittadinanza togliendola e la proposta a quegli stranieri che delinquono dopo averla ottenuta. Ma gli azzurri tirano dritto ed annunciano che non voteranno gli emendamenti al decreto sicurezza sullo Iuscole anche perché, come anticipato, Forza Italia sta lavorando ad un proprio testo sul quale intende confrontarsi con gli alleati e che non vuol dire sterzare a sinistra. Al net del carroccio Forza Italia ha replicato ripiantando i suoi paletti sull'autonomia differenziata ma anche annunciando a sorpresa l'adesione al gruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Sardegna di tutti i consiglieri del partito sardo d'azione che finora aveva avuto un accordo organico con il carroccio. Intanto la procura della Corte dei Conti per il Lazio ha aperto un fascicolo sulla vicenda Boccia-San Giuliano per la verifica di eventuali profili erariali, in particolare sui viaggi del Ministro. Sono lieto che così si possa accertare comportamenti, il commento di San Giuliano. Non un euro pubblico è stato speso e lo dimostrerò carte alla mano. Vedremo. Quello che è sicuro è che nel campo della maggioranza c'è come la sensazione di aver superato un incidente ma di non sapere ancora quante sono e quanto dureranno le ammaccature. Dall'altra parte invece il campo largo, tutte le opposizioni faticano a far combaciare i loro pezzi, anche perché di mezzo c'è la questione Renzi, che qualcuno non vuole più come leader perché va troppo verso sinistra e qualcun altro non vuole nella sinistra perché, lo dice Conte, porterebbe meno voti di quanto gli toglierebbe. È con un forte dispiacere personale ma con un altrettanto forte convincimento, chiarezza e determinazione politica, che annunciamo il nostro addio alla comunità politica di Italia Viva. Luigi Marattin lascia il partito di Matteo Renzi. È l'addio di un alfiere dell'ex rottamatore, affatto convinto della nuova rotta verso il campo largo, intrapresa dal leader di Italia Viva. A tesi antitetiche al renzismo spiega, Marattin va nel gruppo misto e fonda l'associazione Orizzonti Liberali, che punta ad aggregare i moderati dell'opposizione, sirena per gli scontenti di azione, per l'alla liberal del PD. Con lui un centinaio di dirigenti locali, pochi su 24.000 iscritti minimizzano da Italia Viva. Ma contabilità a parte, lo strappo di Marattin è il segno del travaglio che attraversa l'opposizione, del dibattito acceso aperto proprio dall'intenzione dichiarata di Renzi di scegliere l'alveo dell'opposizione da compattare. Elish Line ha chiuso la festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia con un appello alla costruzione della coalizione, individuando 5 punti per sfidare l'attuale governo. Difesa della sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali, diritti sociali e civili. La segretaria rivendica il ruolo baricentrico del Partito Democratico, impegnato a tessere una coalizione che comprenda anche i 5 Stelle, oltre ai moderati e alla sinistra. Al di là dei vetri Giuseppe Conte e dei mal di pancia nel PD e nell'alleanza verde e sinistra, proprio su Renzi, volata come potenziale insidia, portatore di zizzare. Tra Conte e Renzi è quasi quotidiano botta e risposta. Ma la prospettiva del campo largo trova più di un obiettore nei 5 Stelle, alle prese anche con un altro duello, quello tra i leader in carica Giuseppe Conte, deciso a portare avanti la fase costituente, mettendo in discussione anche nome, simbolo e limite dei due mandati elettivi, e il garante fondatore Beppe Grillo, che lo ha sostanzialmente accusato di voler archiviare i 5 Stelle per fare una cosa completamente diversa, prospettando un conflitto da carte bollate. Costruiamo l'alleanza sui temi, è il mantra degli aspiranti azionisti del campo largo, ma proprio l'agenda dei contenuti è un campo minato. Dalla svolta green, con i verdi azioni che si scontrano sull'energia nucleare, al salario minimo, con Renzi contrario, alla politica estera, con i 5 Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra, che si distinguono sulle guerre. E anche oggi sulla relazione di Mario Draghi si aprono solchi. Se Azione vuole portarne i contenuti in Parlamento, il PD plaude, Nicola Fratoiani e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, sottolineano che il futuro dell'Europa non può costruirsi sull'aumento delle spese militari, e il pentastellato Mario Tridico è tranchano. Draghi ora mette sotto accusa le politiche neoliberiste e boccia se stesso. Questo è quello che sentiamo in reazione a ciò che vedremo tra poco, cioè il piano presentato da Mario Draghi per risollevare un'Europa che è in una condizione difficile. Un piano che gli è stato chiesto da Ursula von der Leyen e che oggi l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea ha presentato ufficialmente. Ma prima, visto che abbiamo visto la politica interna, possiamo rispondere come ogni lunedì alla fatidica domanda. Come andrebbe se si votasse oggi, secondo il sontaggio di SVG, così? Fratelli d'Italia perde, meno di quello che temeva, probabilmente alla fine di una settimana certo non fausta, come vedete lo 0,1% ed è al 30,2. Guadagna lo 0,2 il Partito Democratico al 22,5, meno 0,1 quindi stabile il Movimento 5 Stelle, 11,5. Forza Italia più 0,1, 8,5. Lega 8,3, meno 0,2. Verdi e Sinistra più 0,3, la forza che guadagna di più, al 7,2%. dietro azione 3,2 stabile. Italia Viva 2,6 più 0,3, anche se guadagna appunto la stessa percentuale di alternativa di alleanza Verdi e Sinistra. Più Europa 1,7, meno 0,2. Pace, terra e dignità di Michele Santoro 1,1%, meno 0,2. Altre liste complessivamente 3,2%. meno 0,1 aumenta di un 2% l'area di chi non si esprime e probabilmente non andrà a votare quando sarà, che è 1 su 3, il 33%. C'è anche, se è stato composto, un altro quesito che abbiamo chiesto proprio sulla scia di quello che abbiamo sentito anche nei servizi. sullo IUS scuole dopo 10 anni di scuola, il diritto di cittadinanza a chi fa 10 anni di scuola, non avendo in partenza la nazionalità italiana, ovviamente. È d'accordo il 61%, nel senso che è del tutto d'accordo il 42%, più un altro 19% che dice, ma 10 anni sono anche troppo, dovrebbero bastare i 5 anni del percorso scolastico primario. E quindi, d'accordo con l'introduzione del criterio scolastico, come vedete, è un 61% che diventa la quasi totalità degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra e all'opposto, come vedete, solo il 16% degli elettori della Lega. Però vedete che sono favorevoli una larga porzione non solo del PD e di 5 Stelle, ma anche di Forza Italia e il 45% degli stessi elettori di Fratelli d'Italia. In disaccordo, però c'è una porzione non trascurabile complessivamente, che è del 39%. Ma si diceva del rapporto Draghi, se ne parlerà tantissimo in futuro. Per ora siamo solo ai titoli, questi. È una manovra di portata enorme, comunque la consideriate quella disegnata da Mario Draghi nel suo rapporto sul futuro dell'Europa. Un'Europa che è malata a riformare o sarà il declino, dice, e che ha bisogno di tantissimi soldi, 800 miliardi di euro l'anno, il 4,5% del PIL dell'Unione Europea nel 2023. Pensate che il piano Marshall, quello che rimise in piedi i paesi europei messi in ginocchio dalla guerra, arrivava all'1,2% del PIL del 1948. Ma dove trovare le risorse? La proposta di Draghi è un debito comune, come per il Covid, per finanziare progetti che aumentino competitività e sicurezza. Tema divisivo fra i paesi membri, Germania in primis, che oggi ha già detto picchi alla proposta, e gli altri paesi frugali. Draghi, che presenta il rapporto insieme alla presidente von der Leyen, che gliel'ha commissionato e che dovrà decidere quante delle sue raccomandazioni sono da perseguire, propone di cambiare il modo in cui si fanno le scelte dell'Unione, perché l'unanimità richiesta per alcune decisioni rallenta quando non paralizza. I temi più caldi, le armi, Draghi vuole investire ancora più soldi per la difesa, la competitività e i competitor di sempre, Cina e Stati Uniti. Nel commercio mondiale l'Unione Europea ha una quota sempre più piccola, così come nello sviluppo delle tecnologie avanzate. Draghi non fa sconti, bisogna rafforzare l'innovazione su chip e semiconduttori e perseguire nella grande transizione dell'automotive, che ha già messo in subbuglio i produttori. Troppo poco il tempo per realizzarla, il 2035 dietro l'angolo, con il grande tema di sempre, come conciliare gli obiettivi climatici con la competitività. E poi la demografia, dal 2040 ci saranno 2 milioni di lavoratori in meno l'anno, un declino che se non contrastato anche grazie all'immigrazione, mette a rischio la sostenibilità del welfare. Bisogna poi ridurre il costo dell'energia, che seppur diminuito, resse il tallone d'Achille per l'Europa. Le aziende pagano l'elettricità due, tre volte in più che negli Stati Uniti e quattro, cinque volte di più il gas. Insomma, lo scenario che descrive Draghi non è di certo roseo. Noi siamo già in una modalità di crisi, dice, e non riconoscerlo significerebbe ignorare la realtà. Le reazioni al suo progetto finora sono tiepide, d'altra parte la Germania in crisi economica con l'ultradestra che avanza, la Francia senza un governo, a essi bastoni fra le ruote di Orbán e Fizzo, mentre la guerra in Ucraina continua e le elezioni americane sono alle porte. Le elezioni americane domani sera, cioè tra 30 ore a mezzanotte e mezzo, passata la mezzanotte tra martedì e mercoledì, se volete saremo qui, ci vedremo anche prima, ma saremo qui per vedere poi insieme l'unico dibattito fin qui programmato tra i due candidati alla presidenza americana, Donald Trump e Kamala Harris. Avremo ovviamente ospiti, avremo servizi, avremo collegamenti e seguiremo soprattutto la sfida, il duello televisivo. Certo, il voto americano del 5 novembre è un passaggio fondamentale sulla scena internazionale, ma come si diceva nella coda del servizio sul progetto Draghi ci sono due guerre in piedi e su quella d'Ucraina ci sono novità. Ha avuto vita breve la proposta del cancelliere tedesco Scholz su una conferenza di pace, come quella svoltasi in Svizzera a giugno, che stavolta porti al tavolo delle trattative anche Mosca. È stata respinta dal Cremlino, non ci sono le basi per un confronto con Kiev, ha fatto sapere il portavoce Pieskov. Inoltre la Russia non intende trattare sui territori occupati ormai considerati parte integrante della federazione. Territori che invece Zelensky vuole riportare sotto controllo e che potrebbero essere oggetto di scambio con quelli occupati nella regione di Kursk. Le manovre oltre confine, per creare una zona cuscinetto a difesa di Kharkiv, nelle intenzioni ucraine miravano anche a conquistare terreno in vista di uno scambio. Ma non se ne parlerà a breve, almeno non sulla base della proposta tedesca avanzata dal cancelliere che non è piaciuta neanche in patria. La ZDU ha accusato Scholz di voler spingere l'Ucraina verso negoziati fittizi e una falsa pace per ridurre gradualmente il sostegno. Sostegno che non fanno mancare altri paesi, soprattutto i nordici, come la Svezia, che oggi ha varato un altro pacchetto da oltre 400 milioni di euro di aiuti militari, come i baltici e quelli che vivono pericolosamente vicino al teatro di guerra. Sempre più spesso infatti vedono missili e droni sorvolare il proprio spazio aereo. È successo di nuovo nei giorni scorsi in Romania e in Lituania. È accaduto perfino nell'alleata Bielorussia, dove almeno otto droni sono stati abbattuti. Uno di quello sciame probabilmente è finito appunto in Lituania. Così come è più volte successo nelle zone di confine lungo il Danubio, dove il porto ucraino di Smil è stato ripetutamente colpito. Eccetto la Bielorussia, si tratta di paesi nato che finora non stanno reagendo per non alimentare la tensione. È una pericolosa escalation. Ma la Polonia ha già da tempo dichiarato la propria intenzione di aiutare Kiev colpendo missili e droni anche sul territorio ucraino. In Mosca, sempre più spesso, per aggirare l'antiaerea, fa sorvolare lo spazio dei paesi confinanti. In questo scenario arrivano le conferme delle intelligence europee e statunitensi sulla fornitura di missili balistici iraniani a Mosca. E se Teheran nega con forza dal Cremlino, Piescov usa parole ambigue. L'Iran è un partner importante con il quale stiamo sviluppando collaborazioni in tutti i settori, compresi quelli più sensibili. Il rumore dei missili nel cuore della notte, bagliori che illuminano il cielo, paura tra i testimoni che riprendono scene drammatiche, poi postate sui social, infine l'impatto devastante quando gli obiettivi vengono colpiti. Le immagini raccontano l'attacco aereo di Israele la notte scorsa, in tre diversi momenti e in più zone della Siria, 14 missili lanciati dai militari israeliani su obiettivi mirati nella zona di Majaf, a ovest di Hama e dove l'esercito israeliano sostiene di aver colpito un centro di ricerca utilizzato dalle milizie filo-reniane di Hezbollah come base per costruire armi. In questa mappa diffusa dall'esercito con la stella di David vengono mostrati bunker e obiettivi da eliminare, il bilancio delle vittime è salito a 25 morti, altre tre non sarebbero state identificate. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani dall'inizio della guerra civile siriana nel 2011, quello di ieri notte sarebbe uno degli attacchi più violenti di Israele in Siria, l'Iran condanna l'operazione di Israele che definisce un attacco brutale sul campo, i fronti di guerra aperti sono diversi, dal Libano Hezbollah ha lanciato due droni contro la città di Narija a nord di Israele, uno ha colpito questo edificio residenziale fortunatamente senza provocare vittime. Hezbollah ha rivendicato l'attacco come risposta ai recenti raid di Israele nel sud del Libano, poco fa il capo di stato maggiore israeliano Alevi ha detto l'attacco di Hezbollah contro un edificio residenziale a Narija è un incidente grave, l'esercito di Tel Aviv è pronto per qualsiasi missione che sarà richiesta. Israele ordina nuove evacuazioni a Gaza dopo che ieri un attacco Corrazi ha fatto scattare le sirene a Ashkelon. Sul fronte dei negoziati è tutto fermo e la tensione è molto alta, Hamas avverte Netanyahu di accettare le sue condizioni sul cessato il fuoco o gli ostaggi non vedranno la luce del sole. Il leader del partito israeliano di unità nazionale Benny Gantz ha detto al segretario di stato americano Anthony Blinken che il mondo deve esercitare una maggiore pressione militare su Hamas. Intanto dopo 13 anni la Turchia torna a partecipare al vertice della Lega Araba in programma. domani al Cairo. Ma c'è una notizia internazionale che è di tutt'altro tipo. C'è una donna che era già la più popolare della Gran Bretagna che ha fatto un grande annuncio. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per la nostra famiglia. Abbiamo dovuto trovare il modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. La vita può cambiare in un istante. Con un video fiabesco in mezzo alla natura, come si addice ad una principessa, ma anche ad un malato tra i tanti che nella natura ritrova la linfa vitale, rassicurante e per niente reticente, Kate Middleton annuncia di avere completato la chemioterapia. Viaggiare con il cancro è complesso, pauroso, imprevedibile, specialmente per chi ti è accanto. Ora che l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia per me un sollievo avere terminato il trattamento. Il mio obiettivo adesso è di restare cancer free, senza cancro, perché, dice apertamente e con serenità la principessa Catherine, il percorso verso la guarigione resta lungo, costellato di nuove tappe in cui ogni giorno va preso come viene. La malattia ti impone il confronto con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e ti offre nuove prospettive su tutto. Rinnovato apprezzamento della vita e speranza, racconta Kate, mentre scorrono le immagini dei suoi figli piccoli, della sua famiglia sorridente nella campagna inglese. Questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate, semplicemente amare ed essere amati. Ora non vedo l'ora di tornare al lavoro e nel prossimo futuro non mancheranno, quando possibile, anche gli impegni pubblici, conclude Kate, ringraziando tutti per il supporto e l'empatia così importanti in queste circostanze. Ma l'ultimo pensiero è per i malati oncologici, tutti coloro che percorrono la strada contro il cancro. Rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano, dall'oscurità può venire la luce. Lasciate che quella luce brilli. Ma la realtà di chi si deve curare è anche qualcos'altro e purtroppo tornando in Italia torniamo a una piaga che si è rivelata ancora più purulenta negli ultimi giorni. Oggi, nelle ultime 24 ore, altri due assalti al pronto soccorso del policlinico di Foggia. Cosa sta succedendo? L'ultimo episodio di violenza è di questo pomeriggio. Un diciottenne con il braccio ingessato si è scagliato contro due infermieri e un vigilante al policlinico di Foggia e li ha colpiti più volte. Un'aggressione che arriva a poche ore da quanto accaduto la scorsa notte quando un altro ragazzo, poco più che maggiorenne, in preda apparentemente a un attacco d'ansia è entrato nel pronto soccorso in evidente stato di agitazione. Tre infermieri sono stati presi a calce e pugni prima che i carabinieri intervenissero per fermarlo e portarlo in carcere. Il ragazzo, sorpreso in flagranza di reato, è ora accusato di lesioni a personale esercente la professione sanitaria e resistenza a pubblico ufficiale. Una sequenza di episodi che è quasi dell'incredibile. Soltanto cinque giorni fa lo stesso ospedale era stato teatro di un'altra aggressione, questa volta subita da medici e infermieri che si trovano nel reparto di chirurgia toracica e che sono stati costretti a barricarsi in una stanza dei riuniti per sfuggire alla furia di decine di parenti di una ragazza di 23 anni morta durante un intervento chirurgico. La procura di Foggia da un lato indaga per capire come sia morta la giovane, dall'altro per attribuire le responsabilità della lunga aggressione ai sanitari. Mandate l'esercito, mandate chi volete, il governo intervenga o chiuda l'ospedale di Foggia. Tuona Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. I sindacati di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione e proprio a Foggia hanno indetto una manifestazione il prossimo 16 settembre, iniziativa che forse servirà a riaccendere i riflettori su un territorio dal difficile rapporto con la legalità. Gli intrecci tra criminalità organizzata e politica hanno portato allo scioglimento e al commissariamento del comune di Foggia, durato più di due anni nel 2021, e hanno condotto l'intera provincia a vivere le difficoltà e le violenze connesse agli interessi della mafia locale, la cosiddetta quarta mafia, capace di infiltrarsi in ogni settore economico dell'area e associarsi anche a organizzazioni malavitose al di fuori della regione per riciclare i proventi derivanti da usura, estorsioni, traffico di stupefacenti. Nell'ultimo rapporto della Commissione Antimafia del marzo scorso si legge la situazione criminale è stata sottovalutata a tutti i livelli istituzionali, politici d'opinione pubblica e degli organi di informazione. Una mancata risposta, forse, da parte dello Stato. Un'altra piaga, quella delle carceri soprattutto minorili e soprattutto del Beccaria a Milano. Mentre continuano le ricerche di polizia e carabinieri per intrecciare i tre ragazzi protagonisti dell'evasione di ieri, l'ennesima dal Beccaria, nella tarda mattinata di oggi, nel carcere minorile di Milano, si insediava il nuovo comandante Raffaele Cristofaro con la sua nuova squadra. Da oggi ha il delicato compito di gestire un istituto penitenziario da mesi fuori controllo, teatro di continue rivolte ed evasioni, piegato dal sovraffollamento e da un personale a ranghi ridotti anche a causa dei 13 arresti e le 8 sospensioni dell'inchiesta dello scorso aprile sui presunti pestaggi e torture ad almeno 12 giovani detenuti. Un istituto, specchio di un sistema carcerario, il nostro, da ripensare. Ma la sfida più difficile per il nuovo comandante sarà quella di coniugare il recupero dei giovani detenuti con la risposta della legge contro i continui atti delinquenziali che vanno in scena dentro il minorile. Scettico il sindacato autonomo degli agenti penitenziari, non ha i titoli per fare il comandante di reparto e costerà in tutto 500 mila euro. Qual è la soluzione? La soluzione è quella di ripristinare la piena funzionalità dell'istituto, di potenziare, migliorare quello che c'è già, il trattamento, motivare la polizia penitenziaria e favorire una direzione efficace che riprenda pienamente il controllo dell'istituto. E' la ferma posizione di Antonio Sangermano, già magistrato di lungo corso a Milano, nominato a marzo scorso dal ministro Nordio a capo del Dipartimento per la giustizia minorile, che oggi ha presenziato all'arrivo del nuovo comandante. Parole che vanno nella direzione opposta di quella parte della politica e di alcuni operatori interni all'istituto che invece chiedono la chiusura del beccaria e la depenalizzazione dei reati minori, nodi difficili da sciogliere. Il terzo ragazzo evaso di ieri è un 17enne di Pavia. Era in regime di detenzione per un tentato omicidio. Qualche ora prima erano riusciti a fuggire due fratelli nati a comodi, origini egiziane, 16 e 17 anni. Sarebbero tra i promotori della feroce rivolta andata in scena nove giorni fa, quando in quattro avevano cercato di fuggire, approfittando del caos generato dall'incendio di alcuni materassi. Uno dei due fratelli aveva già tentato di scappare tre volte. Ieri è riuscito. Non sono ancora stati trovati Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due alpinisti esperti dispersi da sabato pomeriggio a 4.600 metri di altezza, mentre si trovavano a circa 200 metri dalla vetta sul lato francese della cima del Monte Bianco. I due sorpresi dal maltempo avevano lanciato l'allarme prima di perdere i contatti. I loro telefoni sono spenti, la temperatura nella notte è scesa a meno 12 gradi, i soccorsi sono stati ostacolati dalle condizioni meteo, il rifugio più vicino alla capanna Vallò a 4.362 metri e non si hanno più notizie anche di altri due scalatori sudcoreani impegnati anche loro sul Monte Bianco. Nel primo pomeriggio sul Monte Castore, nel massiccio invece del Monte Rosa, in seguito al cedimento di un cornicione di neve, un alpinista è morta e altri quattro suoi compagni sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale a Aosta. E infine Sinner, ieri stanotte la grande gioia, il festeggiamento per la vittoria straordinaria a US Open. Ma oggi è il giorno dell'attesa, nervosa, perché entro stasera può arrivare oppure no l'ultimo ricorso per quella brutta storia della pomata dopante. Il campionissimo che piace al mondo assapora giustamente l'impresa di Flashy Meadows e l'anno fenomenale sul campo. I suoi pensieri espressi con i giornalistici è sempre però in riferimento al periodo difficile in cui per tanto tempo ha dovuto tenere nascosto il caso Clostable. Adesso che ha cancellato Fritz per il secondo slam dopo l'Australian Open potrebbe esserci un altro avversario che non indossa al completo la tennis. Entro la mezzanotte di oggi c'è la possibilità da parte della VADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, di presentare un ricorso al tasse di Losanna contro il giudizio di totale mancanza di colpe o negligenza con cui si era espressa un'agenzia indipendente il 19 agosto. Con il termine ultimo scadono i 21 giorni a disposizione per appellare la decisione dell'International Tennis Integrity che aveva prosciolto Sinner ad ogni responsabilità per la doppia positività del 10 e del 18 marzo. 150 giorni con il peso nell'anima e un tarlo in testa per quella pomata cicatrizante indesiderata che aveva assorbito con dei semplici massaggi. Ora l'ultimo timore per un ricorso intorno al quale fa rumore al silenzio. Da Montreal, la serie centrale della VADA, non trapeva nulla, però va ricordato che spesso gli appelli vengono comunicati all'ultimo momento per strategia oppure per avere una documentazione il più completa possibile. Dunque sono le ore decisive per Sinner che come auspicio dovrebbero portare alla rinuncia del ricorso perché altrimenti sarebbe la prima volta. Impugnando la sentenza si tratterebbe infatti di un gesto storico e clamoroso contro il provvedimento di un'agenzia indipendente. Ancora di più adesso che la VADA ha da poco approvato uno studio sulla prevalenza dell'elemento occidentale nelle positività al Clostable, soprattutto in minima quantità. Il rischio per Sinner potrebbe essere quello di una sanzione retroattiva da 4 a 6 mesi che porterebbe alla perdita dei punti nei tornei di Miami, Halle, Cincinnati e US Open oltre ai premi accumulati. Stasera siamo nella terra di nessuno tra in onda e otto e mezzo e questa sera c'è Barbero, in viaggio con Barbero. Il grande storico ci racconta i destini dei protagonisti del delitto Matteotti. Ci fermiamo. L'ultima notizia riguardo a un tema di cui abbiamo parlato nel giornale. È in programma, secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti qualificate, un ampliamento di numero dei presidi di polizia presso gli ospedali. Teatro negli ultimi giorni di diverse aggressioni. Ci sarà un orario di operatività più lungo con un incremento del personale destinato, dice ANSA. Dal 1 gennaio 2023 all'8 agosto, quindi ieri del 24, i posti di polizia presso gli ospedali sono passati da 126 a 198 con un incremento di 72 unità. Adesso vedremo che cosa succederà. È l'ultima notizia. Vi lascio buona compagnia dal professor Barbero. Ci vediamo domani sera. Buonasera. Buonasera.